Si finge idraulico, entra in casa di un'anziana e la deruba. È accaduto a Ortona, dove un ottantenne ha denunciato l'episodio ai carabinieri. L'uomo, dei modi gentili, si è presentato con la scusa di fare un controllo all'impianto di riscaldamento. Il finto idraulico in tal modo si è potuto muovere liberamente nella casa, avendo accesso a tutte le stanze, per quello che si è rivelato poi un finto controllo ai termosifoni. Come in tante altre occasioni che hanno visto coinvolte come vittime gli anziani, dicono i carabinieri di Ortona, il ladro, giunto in camera da letto e approfittando di un momento di distrazione dell'ottantenne, ha rovistato nei cassetti del Comò, riuscendo a trovare vari oggetti in oro del valore di circa 3.000 euro. Subito dopo, l'uomo si è allontanato indisturbato con il bottino, non prima però di aver assicurato all'anziana donna che l'impianto di riscaldamento era perfettamente funzionante.